La comunità di Molfetta si prepara a festeggiare Santa Rita da Cascia che ricorre il 22 maggio. Domani su Teledeon in diretta dalla chiesa di San Domenico dove è custodita la statua della Santa. Alle ore 18 e 30 trasmetteremo il rosario a seguire la celebrazione eucaristica. Sabato invece alle ore 11 la Santa Messa Solenne e il servizio. Una devozione che ha origine nei primi anni del Novecento è quella della comunità di Molfetta verso Santa Rita da Cascia che si celebra il 22 maggio. Anche quest'anno alcuni appuntamenti sono sospesi a causa della pandemia. Inoltre nella parrocchia molfettese di San Domenico dove è custodita la statua della Santa sono contingentati gli ingressi per non creare assembramenti. È aumentato il numero delle celebrazioni e si utilizzano i mezzi di comunicazione. Proprio Teledeon trasmetterà in diretta dalla chiesa di San Domenico domani alle ore 18 e 30 il rosario e a seguire la celebrazione eucaristica. Sabato alle ore 11 la Santa Messa Solenne. La devozione a Santa Rita a Molfetta trova origini nei primi del Novecento, dopo la canonizzazione della stessa. Si deve pensare che a Molfetta il desiderio già di inoltrare il culto, di perpetuarlo e di fomentarlo nasce proprio nei primi del Novecento, tant'è vero che nel 1914 viene commissionata la statua, l'immagine di Santa Rita che oggi è qui custodita nella parrocchia di San Domenico. La preparazione alla festa è preceduta dalla pratica dei 15 giovedì, che sono un percorso che inizia più o meno a febbraio e che poi culmina nel novenario. E questo percorso dei 15 giovedì di Santa Rita è un'occasione anche di catechesi, di formazione, di riflessione e di preghiera, al quale partecipano prima di tutto le socie e i soci dell'associazione. Per Don Silvio Bruno, oggi Santa Rita ci lascia un messaggio preciso. Recuperare quella comunione con Dio che in un certo senso ci riporta ad una unità, perché la pandemia ci ha disperso non solo nelle relazioni, nei contatti con gli altri, ma soprattutto interiormente di tutti i anni.